Allora, io sono Daniele Calvarese, sono un giovane illustratore e ho studiato presso la scuola di comics. Ho presentato qui il ritratto del regista Alberto Lattuada e l'ho realizzato con tecnica tradizionale, quindi acquerello. La scuola comics si occupa di illustrazione, fumetto principalmente, perché nasce come scuola del fumetto. E ci sono tanti altri corsi come il corso di animazione, insomma, qualsiasi cosa che riguarda il mondo dell'arte in varie sfaccettature. Io ho avuto fin da piccolo la passione per il disegno e la pittura. L'illustrazione lo vedo come un ambito del lavoro più vicino a queste caratteristiche qua. Mi sono ispirato a una foto che ho scelto come reference per il ritratto del regista e ho deciso di catturare il momento del regista in cui lui sta in azione, cioè con il megafono in mano. E per quanto riguarda la colonna sonora a cui ho pensato, io direi Bocca di Rosa di Fabrizio Di Andrè, perché uno dei film di Alberto Lattuada è Venga a prendere il caffè da noi, dove c'è un aspetto molto di seduzione e di eroticità, se vogliamo. Le vie del cinema è un festival che mi suscita molta emozione perché c'è un rapporto profondo tra passato e presente. Credo che la memoria sia un valore molto importante per le generazioni future per imparare ciò che i grandi maestri e registi del passato ci hanno insegnato e trasmesso.